Allora, di nuovo dal festival Il Senso del Ridicolo, Livorno, tutta un ambaradano organizzato da Stefano Bartezzaghi proprio un minuto prima di andare sul palco Maria Cassi ci ha concesso una battuta al volo guarda i denti che tremano, la tensione della belva però qui è una cosa un po' particolare perché c'è un pubblico che fino a questo momento ha visto più che altro conferenze quindi adesso tu dai una svolta faccio finta sia una conferenza camuffata, poi in realtà metto lì uno spettacolo e qui si ride, finora hanno spiegato il meccanismo della risata, ora si ride ma io spero, generalmente faccio ridere, spero di far ridere anche ora in quadro là dietro c'è scritto tutto esaurito tutto esaurito, meglio, c'è l'esaurito, dice quello un po', dice l'esaurito c'è già anche una lista d'attesa c'è già la lista d'attesa, wow, fantastico cosa succederà in 30 secondi? in 30 secondi, non lo so, si chiacchiera, si ragiona perché a noi fiorentini ci garba tanto ragionare si ragiona, si ragiona, di umanità, di gente di modi di essere si ragiona, si ragiona, si chiacchiera, si, si eh, si guarda non vedo l'ora di vederlo anche mamma mia tutto questo e molto di più tra un attimo, qua a Livorno, piazza del luogo Pio, Maria Cassi sul palco per il festival Il Senso del Ridicolo, tutto esaurito vi voglio bene, ciao 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 ah, insieme, scusami, il famoso surf è un surf in movimento un famoso surf ciao ciao Radio 2 ciao, ciao Radio 2 ciao grazie opla grazie davvero a dopo ciao finito? fatto sì